Quindi, vi racconto come funziona l'esame e come funzionano le simulazioni d'esame che ci aspettano in queste due settimane. Siamo arrivati alla settimana 12 e per questa settimana e per la prossima settimana, al posto dei laboratori strutturati come al solito faremo due simulazioni d'esame, cosa vuol dire simulazioni d'esame? Vuol dire che faremo un laboratorio che si svolge esattamente come si svolgerebbe l'esame, con gli stessi meccanismi, che adesso vi faccio vedere quali sono questi meccanismi. Una questa settimana, l'altra la settimana prossima, quindi vi chiederei in queste due settimane di venire al laboratorio e usare i computer del laboratorio, perché sono quelli che dovrete usare all'esame. Quindi, così verifichiamo che ci siamo tutti configurati correttamente, che li sappiate usare, sapete trovare dove è Eclipse, dove è SQL, eccetera eccetera, così all'esame non avrete, diciamo così, la sorpresa di andare lì e essere disorientati. Ok? Vi chiederei di cercare di mettervi uno per computer, possibilmente, nei limiti ovviamente della capienza del laboratorio e quindi distribuirvi bene sui due turni. quindi andiamo a ripescare, so che ce ne siamo fregati durante tutto il corso della divisione alfabetica, tranne le prime due settimane, ma andava bene così perché ci stavate dentro, però adesso andiamo a ripescare la divisione alfabetica e cercate di dividervi in parti uguali in modo che ciascuno possa lavorare effettivamente sul computer del laboratorio. Vi ricordo che a differenza del vostro computer, su cui ormai Eclipse ha memorizzato il token per accedere a GitHub e quindi fare push e pull, il computer del laboratorio no, anche perché poi ogni volta magari sarete su un computer diverso, quindi ricordatevi di portarvi dietro il token di GitHub in modo da poterlo inserire in Eclipse per poter fare il push, consegnare sia il clone per scaricare il progetto, sia il push per consegnarlo. portatevelo dietro in una forma comoda da cui fare copia e incolla, ok? Quindi ho visto scene del tipo di gente che aveva la fotografia del token sul cellulare e lo ricopiava a mano una stringona di 27 lettere casuali e che non è, poi di che non funziona, però è il sito giusto e non lo so, quindi tenetevelo in un bel file di testo su una chiavetta, così fate semplicemente copia e incolla, se per caso lo perdete, non ci riuscite eccetera, vabbè vi potete sempre creare un token nuovo nel momento in cui li siete in laboratorio e tenervelo anche durante l'esame, però ogni volta creiamo un token nuovo, tanto non costano, però purtroppo Eclipse ci obbliga a questo, facciamo così, giro strano. Allora in queste due settimane, quindi nel laboratorio di domani, domani è mercoledì e nel laboratorio della settimana prossima, vedete squadra 2 e squadra 1 per dividervi alfaveticamente, non pubblichiamo il testo prima. So che avete passato la domenica tristi perché non c'era il testo del laboratorio di questa settimana, ma perché lo vedrete solo sul momento, giustamente come all'esame in certo senso, no? E ci lavorerete come lavoratore all'esame. Poi nelle esercitazioni successive, quindi nelle lezioni della settimana 13 e la settimana 14, in aula vedremo una soluzione. Ok? Quindi adesso stiamo facendo i temi di esame degli anni precedenti, ma poi dalla settimana prossima faremo la soluzione delle due simulazioni d'esame. Le due simulazioni d'esame saranno su due database diversi e questi due database saranno i due database che useremo negli appelli di quest'anno. Ok? Non ci sarà un database sorpresa, così abbiamo tempo di studiarceli, di guardarceli, di scaricarceli, di installarli, eccetera, non perdiamo tempo su questo. Quindi saranno quattro appelli, più uno cinque, il quinto ballerino strano, durante l'anno in cui useremo questi due database che impareremo a conoscere da domani, uno domani e l'altro settimana successiva. Le due simulazioni d'esame ovviamente saranno così anche per bilanciare una su una simulazione ad eventi e l'altra su una ricorsione. Entrambe ovviamente avranno database, graffi, query e cose di questo genere. Ok? Come funziona il meccanismo? Allora il meccanismo si basa su una piattaforma legata a GitHub che si chiama GitHub Classroom, che ci permette di pubblicare un testo, un progetto base, un progetto di partenza e gestire in modo controllato l'operazione di clone e push, eccetera, che fate voi. Cioè a differenza nel laboratorio normalmente cosa facevate? Prendevate un progetto di base, facevate fork e ci lavoravate nel vostro. Oppure magari qualcuno era pigro e non voleva farsi il fork e si faceva il clone direttamente di quello, eccetera, eccetera. Però era un po' incontrollata la cosa, poi ciascuno di voi ha un nome GitHub di fantasia che noi non sappiamo e non conosciamo. Invece GitHub Classroom ci permette di gestire questa parte qua. Allora cosa succede? Durante l'esame io vi mando un link, che è questo qua, questa pagina qua non la vedete, la pagina mia di amministrazione. Vi mando un link come vi sto mandando adesso su Telegram, in aula ve lo manderò in modo diverso chiaramente, che è questo ad esempio. Quando voi cliccate su questo link, questo è un link per accettare, adesso ci clicco io, dice guarda tu la prima volta che cliccate su quel link su un determinato computer vi chiede di identificarvi. Allora tipicamente la prima cosa che fate è di fare login su GitHub, in questo caso ero già loggato e quindi mi ha già riconosciuto. E trovate l'elenco di tutti gli studenti del corso e dovete scegliere chi siete voi. In questo modo la piattaforma Classroom associa il vostro nome e matricola al nome GitHub e così sappiamo chi è che consegna le cose praticamente. Ok? Allora io ho aggiunto un utente fittizio, che sono io, questa operazione qua di mapping la fate solo la prima volta, quindi se la state facendo adesso poi alla simulazione e all'esame non dovete più farla, perché entrando con quell'utente GitHub lui si ricorda che siete questa persona qua. Ovviamente dovete scegliere il vostro, non quello di un'altra persona o altro. Se fate qualche casino o se non trovate il vostro nome nell'elenco, io l'ho scaricato ieri i nomi quindi dovrebbero essere giusti ma non si sa mai, me lo dite e io riesco poi a disassociarvi o riassociarvi a un nome diverso secondo se capita qualcosa. Ok, io dico che sono sicuro di essere io e quindi fatta questa fase di identificazione passiamo direttamente qua che è la fase vera e propria all'inizio dell'esame. Quindi all'inizio dell'esame ci sono i due passaggi, mi loggo con GitHub, quindi mi identifico con GitHub e quindi devo avere la password dietro, eventualmente il telefono per il codice se avete fatto l'autenticazione a due fattori e la prima volta identifico chi sono nell'elenco degli studenti. A questo punto questi due passi normalmente non si fanno più solamente la prima volta, poi le volte successive vi do il link e si arriva direttamente qua. E qua c'è scritto guarda c'è uno, io ho pescato un esame dell'anno scorso, uno a caso, non sono le simulazioni di domani però giusto per provare il processo insieme, lui dice guarda se accetti questo assignment ti verrà creato un repository che si chiama così, dentro un'area, non va a finire dentro la vostra area personale, va dentro un'area condivisa in cui noi abbiamo, anche noi docenti abbiamo accesso. È un repository privato che vedete solo voi, ciascuno di voi il proprio e noi li vediamo tutti in certo senso, no? Quindi ci permette di condividerlo. Quindi fai accetta, lui ti sta facendo automaticamente il fork, quindi crea un repository apposta e ti fa il repository apposta e ti fa il fork del progetto base. Qui non dovete preoccuparvi perché sembra che non faccia niente, in realtà lo fa e dice basta che fai aggiorna e vedi che te lo dà, alla fine. e ti dà la ur del repository. Ci cliccate sopra e questo è un repository normalissimo a cui voi avete accesso in scrittura, privato, in cui avete accesso voi, in una repository TDP esami online, c'è un'organizzazione privata che usiamo solo per gli esami, dove ci sono solamente delle cose di esami. Quindi qua ci sarà il vostro nome, la data dell'esame e il vostro nome, il nome del repository lo costruiamo così. A questo punto avete finito la parte iniziale, passiamo ad Eclipse. Prendi questa cosa e fai un clone. Anche per fare il clone ci servirà già, a differenza dei clone che fate normalmente magari nei progetti di laboratorio, qua vi serve già il token perché essendo da un repository privato Eclipse deve identificarvi per poterlo scaricare, ok? Quindi già anche a fase iniziale, qui il tempo dell'esame è già iniziato, non a questo punto. Quindi in Eclipse andiamo lì e facciamo al solito import da git e prendiamoci l'indirizzo di clone e ce lo importiamo dove volete sul vostro workspace che avrete sul computer del laboratorio. Questa è la solita procedura che usiamo sempre per importarci il nuovo progetto. In questo caso ci sarà il progetto, mi è finito qua, dentro il progetto troverete tutto, troverete un progetto base, uno scheletro di progetto base come siamo abituati normalmente già in laboratorio, quindi con le classi principali, già un DAO, il GbConnect, l'EntryPoint, eccetera. L'interfaccia in fxml sarà già o completa o quasi completa, nel senso che cerchiamo già di dare i nomi per non perdere tempo sulle cose, diciamo, così stupide. E poi ci sarà sicuramente il testo dell'esame, e lo vedrete aprendo direttamente il pdf. Non vi diamo il testo stampato su carta, lo guardate direttamente online. E basta, essenzialmente. A volte mettiamo anche una cartella database, in questo caso per qualche motivo non c'era, oppure era... no, non c'era, perché faceva riferimento forse a un database che c'era già, questo è l'appello di gennaio, quindi l'ultimo dell'anno, quindi il database già lo conosceranno tutti, e se no c'è una cartella database con la SQL da importarvi. Ma quello non è... viene detto wifi o spot. Nella cartella database del progetto base per qualche motivo non la vedo, sta cartella database. Quindi, eventualmente, ci eravamo dimenticati di metterla. Vabbè, era quello dei wifi che abbiamo già usato, quindi probabilmente l'avete già scaricato. E da qua in avanti voi potete lavorare. Lavorate normalmente, sviluppate il progetto, eccetera, eccetera, e poi alla fine del tempo farete un commit, un pull. Potete fare anche più commit durante il lavoro, per vostra tranquillità. Tipicamente quando arrivate a un punto che funziona, magari fate un commit, così se succedesse qualche casino potete almeno tornare indietro e riprendere la cosa che funzionava. E basta, vi lasciamo lavorare tranquilli. Come dicevamo, voi avrete la stessa configurazione che avete in laboratorio, quindi i pc collegati a internet, e quindi potete, se vi serve, cercare la documentazione tranquillamente come al solito. Non dovete cercare di comunicare con voi, cioè tra di voi, o con qualcuno fuori, o con qualche intelligenza artificiale che poi magari non sa cosa è JavaFX e che fa scrivere cose strane. Tutto questo si incastra in un flusso d'esame che funziona così, cioè questo che abbiamo visto è questa parte qua di svolgimento. Quindi lo svolgimento inizia quando vi diamo il link, e da quel momento avete due ore di tempo. Entro le due ore di tempo, alla fine vi diremo, il tempo è finito, dovete fare un commit e uscite un attimo, uscite dal laboratorio. Lasciate tutto acceso, i computer accesi, aperti, su Eclipse, così risparmiamo tempo in fase di correzione, però l'importante è che abbiate fatto il push del vostro progetto. Qualunque cosa succeda da un momento in avanti il progetto è salvato e consegnato. Dimmi. Ma quindi il push non l'ha fatto in quelle due ore? Siamo lì, 30 secondi, fino a un attimo che finisco di fare il push, non vi uccidiamo, se non c'è la... Com'è il team per fare il push? Team, commit, infatti allenatevi a questo serve. Cioè io immagino che io abbia modificato qualcosa qua nel model, ho scritto int ciao e voglio salvare, allora faccio tasto destro, team, commit, scrivo esame, con qualunque messaggio di commit e poi commit e push qua sotto. Di nuovo affinché il push funzioni dovete avere il token valido. Fatto. Quindi, prima di iniziare il compito noi vi diamo un po' di tempo per prepararvi. Circa 20 minuti alla fine stimando, basta, no? Quindi facciamo l'appello, se il compito inizia, che ne so, alle 9, noi l'appello lo facciamo 20 minuti prima. Entrate, vi stimate sul computer, lo accendete, verificate che parte Eclipse, verificate che il database ci sia, tutte e due. No, in realtà io vi dico, già il giorno prima vi dirò quale database utilizzeremo. Quindi sapete già se il database è uno o l'altro di quelli che vedremo nelle simulazioni. Poi avete 20 minuti di tempo per prepararvi. Prepararvi vuol dire prendere, magari avete dei progetti base, avete degli esercizi che avete fatto, ve li portate dietro su chiavetta, ve li scaricate da GitHub, volete scaricarvi qualcosa su Eclipse, fate pure. Potete copiarvi le cose che vi servono. In realtà se le avevate su GitHub non vi serve copiarvele, perché anche durante la prova d'esame potete andare a consultarle o scaricarle direttamente. Ricordate appunto è un PC che, quello del laboratorio, non è il vostro e quindi pensate a qualcosa che vi servirà e scaricatevelo e testate. Il mio consiglio è prendere un progetto che siete sicuri che funzioni, siete lì, provate a importarlo, fai il run e vedi che funzioni così sei sicuro che il Java, il JavaFX, il database eccetera si vedono e funzioni tutto. Così si può. Fate un login su GitHub così verificatevi del token, tutte queste cose qua iniziali. Poi normalmente entro i 20 minuti tutti riescono ad essere abbastanza a posto. Se siamo posto prima, meglio, è tempo guadagnato, nel senso che è tempo che vi regalo. Nel senso che anziché 20 minuti ce ne mettete 15, quei 5 minuti in più li usate per fare il compito. Non anticipo la termine della prova, ok? Dopodiché iniziamo il compito e voi lavorate tranquilli, se avete bisogno chiedete. Se avete bisogno chiedete, lo ripeto una seconda volta, nel senso che se vi accorgete che siete bloccati su una cosa da mezz'ora, magari anziché rimanere bloccati per il resto dell'ora, dell'ora e mezza, una domandina magari riusciamo non a risolvervelo, ma a sbloccarvi forse sì. Quindi non abbiate problemi a chiedere. Poi, come dicevo, alla fine delle due ore, vi chiediamo di uscire tutti dal laboratorio, tipicamente con quei 10 minuti di pausa in cui uno si dispera, o va in bagno, o si confronta, queste cosette qua, normali, ecco al termine dell'esame, e poi vi diamo, cioè vi chiameremo poi uno per volta, in realtà noi siamo interdocenti, quindi saremo tre per volta, vi chiamiamo per vedere insieme il progetto. In qualunque momento è possibile ritirarsi, quindi sia durante la, spero di no, però, visto che lo chiedete ve lo dico già subito, sia durante la prova, quindi mentre fate esercizio, dite, lascia perdere, non fa per me oggi, oppure dopo anche che avete consegnato e siete usciti, anziché potete aspettare, magari pensate di aver fatto una cosa che non è valida, potete scegliere di aspettare, e la vediamo insieme nella correzione, oppure, guarda, non perdiamo tempo, me ne vado a casa, e lo dite, quando io esco per chiamarvi, vi chiederò se qualcuno desidera ritirarsi, altrimenti siamo lì apposta per parlare con tutti voi. Sul momento cosa facciamo? Ci sediamo insieme davanti al computer che avete usato, e proviamo a far partire il programma, a verificare il punto 1, e aprire il codice da due occhiate veloci, al codice, diciamo così, che implementa il punto 1. Di solito, nel tema di esame, mettiamo sempre soluzioni di confronto, quindi testeremo con quelle, testeremo con altre soluzioni, che abbiamo noi giuste, per vedere se il programma calcola giusto, e se calcola correttamente, se genera errori, diciamo così, eccezioni strane, il punto 1 è superato. Normalmente sul punto 1 diamo un punteggio che parte da 21, in modo che se ci sono anche delle piccole imperfezioni, riusciamo a abbassare un pochino il punteggio senza doverli necessariamente mandare via. E quindi questo lo facciamo sul momento. Quindi può darsi che il punto 1 non sia sufficiente, quindi non fa ciò che deve fare, non arriva a fare ciò che ha richiesto il punto 1, allora in automatico si torna la volta prossima. Se invece fosse sufficiente, avete già un punteggio che diventa il punteggio minimo del vostro esame. Dopodiché può darsi che sulla parte 2 non abbiate fatto nulla o quasi nulla, cioè praticamente nulla, e allora ovviamente la parte 2 vale 0 punti e questo qua diventa già il vostro punteggio definitivo. Se invece, come spero, avete svolto in tutto e in parte il punto 2, ce lo verifichiamo con calma. Nei giorni successivi andiamo a prendere quelli che hanno consegnato, intanto abbiamo questo punto e tutti i github di tutti i progetti che sono stati consegnati, ce lo andiamo a scaricare e diamo un punteggio fino a 12 punti per la parte 2. Quindi fino a 21 punti per la parte 1 e fino a 12 punti per la parte 2. A quel punto vi comunicheremo il voto finale dopo qualche giorno, ma voi il giorno stesso dell'esame sapete già se avete passato l'esame o no. Magari non sapete il voto definitivo, perché se avete provato a fare la parte 2 vi è venuta più o meno metà, non sapete se questa più o meno metà sono 4 punti o ve ne diamo 8 o 9, perché dipende lì, non andiamo a vedere semplicemente come... Punto 1 diamo per scontato che lo dovete saper fare. Quindi se sbagliate la quiz, sbagliate a creare il grafo o cose del genere, non va bene. Il punto 2, essendo uno un pochino più algoritmico, uno magari ha un approccio, prende un approccio, non è quello ottimale, eccetera, eccetera, quindi non andiamo a fare una valutazione funziona o non funziona, ma una valutazione di ragionamento, del ragionamento che ci avete messo, ovviamente anche nel codice, anche nell'implementazione, ma anche nel design. Per quello lo valutiamo offline e non sul momento. Dopodiché, quando vi assegniamo il voto finale, vi daremo ancora qualche giorno per pensarci, nel senso che poi, nel momento in cui pubblico i voti, di solito lo dico, che non so, poniamo le pubbliche di martedì, vi dico, guardate, chi vuole rifiutarlo, dentro venerdì me lo dica, se no venerdì congelo i voti. Ovviamente il primo appello sarà, come sempre i tempi sono stretti, perché dobbiamo riuscire a chiudere tutto il cerchio, compreso la registrazione dei voti, prima dell'inizio del secondo appello, possibilmente prima della chiusura delle prenotazioni, il secondo appello. Prima della chiusura delle prenotazioni sarà molto difficile, quindi magari ci sarà qualcuno che decide di prenotarsi lo stesso e poi, quando vede il voto, diciamo, si toglie, non dà più l'esame, perché gli va bene il voto precedente. Allora, di sicuro voi il giorno del primo appello sapete se l'avete passato o no. L'unica cosa che non sapete è se avete fatto il punto 2 in modo non... Se l'avete fatto schifoso sono 0 punti, se l'avete fatto perfetto sono 12 punti, se l'avete fatto in mezzo non sapete ancora che punteggio avrete. Questa è l'unica incognita che vi rimane. Dimmi. Il massimo, quindi, è 33? Il massimo, sì. Per la Lolle basta 31? Sì, basta 31 per la Lolle. Sì, 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 non facciamo cose strane, punitive, per cui deve avere 37 per la Lolle. No, se supera 30, per me è 30 a Lolle. Io sono ben contento se riprendete 30 a Lolle, ovviamente. Ma non dipende da me. Ok, questa trafila si ripete ovviamente ad ogni singolo appello. Nei primi appelli, sicuramente il primo e il secondo, tutto questo gioco qua dura circa due ore e mezza, tre ore e mezza. Contate 20 minuti per entrare, due ore per fare il compito e normalmente un'ora per verificare uno a uno tutte le persone, no? Quindi in laboratori ci sono 40 posti, vuol dire avere... ci sediamo lì, facciamo partire, guardiamo un attimo il codice, dieci minuti a testa, ci vogliono, no? Che non è un'interrogazione, semplicemente guardiamo insieme il vostro programma e cerchiamo di capire se ci sono gli errori quali sono e se sono gravi o no. Se ci fossero delle difficoltà che emergono nel momento in cui verifichiamo il compito, magari vediamo una cosa che non avete capito, chiaramente lì non c'è il tempo di discutere troppo nel dettaglio, a quel punto diciamo magari ci vediamo nei giorni successivi. Ci vediamo nei giorni successivi tenendo conto che voi a quel progetto d'esame continuate ad avere accesso. C'è quella ur del progetto che avete usato nell'esame, rimanete ancora proprietari di quel repository e quindi al limite segnatevi l'indirizzo di quel progetto a casa, ve lo prendete sul vostro computer, vi fate un clone e potete rifare e vedere quello che avete fatto, se proprio non avete voglia di studiare gli altri esami. Quindi quello rimane a voi, ve lo potete guardare in qualunque momento. E poi eventualmente appunto se c'erano delle difficoltà che non siamo riusciti a chiarire in sede d'esame, ve lo guardate e poi ci vediamo successivamente per la consulenza per andare a capire magari meglio o aiutarvi a capire cosa c'era che non andava. Basta, questo famoso GitHub Classroom come dicevo l'abbiamo usato solamente alla creazione del progetto, poi la consegna avviene tramite un normalissimo push. Poi io quello che vedrò nella mia parte è una cosa di questo genere in cui vedo che c'è una serie di persone che ha fatto effettivamente ha accettato l'assignment e io riesco a vedere sia il nome che il link al reposito di vostro in cui potete andare a vedere. Questo qua submitted, non submitted c'entra niente nel senso che volendo a quell'indirizzo a quel link lì potete dire ho consegnato ma noi non andiamo a vedere quella parte lì semplicemente andiamo a vedere qui a vedere mi lo mette submit perché ho fatto un push poi facessi due push o tre mi lo mette lo stesso submit quindi non è questo che andiamo a vedere. Ad esempio Antonella ha già fatto un push di prova eccetera con un commit zero commit chi non ha ancora consegnato nulla quindi da qua noi possiamo avere la vista d'insieme andare a prendere i vostri progetti invece ciascuno voi invece il vostro progetto non ve lo vedete elencato nella vostra area ma dovete ricordarvi questo indirizzo poi se non ve lo ricordate me lo chiedete io ve lo do ma è facile anche ricordarci perché semplicemente la data dell'esame trattino il vostro nome dentro questo reposito ristrano tdp esami online ci sono dubbi ancora su come si potrebbe svolgere allora sia le simulazioni in esame sia l'esame vero seguiranno questo e useremo questo meccanismo qua di github classroom vi richiede di essere un pochino agili con github ma l'abbiamo usato durante l'intero corso quindi se avete fatto i laboratori usando diciamo così github dovrebbe essere sempre lo stesso meccanismo non lo so non lo so non abbiamo ancora deciso ecco in ogni caso non ve lo dico adesso parto domani per la simulazione ma per l'esame vi dico ah no scusate ancora una cosa vuol dire sui turni vi dico qual è il database che useremo ma non ovviamente di che tipo sarà l'esercizio per i primi appelli quindi sicuramente il primo e molto probabilmente anche il secondo non ci staremo tutti in un unico turno di laboratorio perché il primo appello magari abbiamo circa un centinaio 110 persone il laboratorio è da 40 e allora succedono due cose la prima cosa è che ci dividiamo in turni quindi io farò normalmente al primo appello devo fare tre turni ok dicevo questa cosa qua dura tutto il giro tre ore e mezza e quindi metti c'è un turno che inizia alle otto e mezza uno a mezzogiorno e l'altro alle quattro qualcosa di questo genere no? adesso poi vi do poi vi do poi i dati diciamo gli orari esalti vi darò poi gli orari esalti io questi turni li definirò ovviamente quando avrò l'elenco completo dei prenotati quindi quando si chiudono le prenotazioni che è qualche giorno prima dell'esame io il giorno dopo faccio due conti e vi dico quell'esame questo appello sarà su due turni su tre turni e i turni saranno a questi orari quindi è importante per me che nel caso in cui decidiate di non venire per me ma anche per voi nel caso in cui decidiate di non venire per favore cancellate la prenotazione in modo che io quando poi vado a tirare giù i dati li abbia più diciamo così precisi possibili e allo stesso tempo capirete che se non vi siete prenotati non posso poi aggiungervi l'ultimo momento perché avremo poi abbastanza i punti i posti contati e il tempo contato ok? quindi è facile schiacciare su prenota schiacciare su annulla prenotazione cerchiamo di farlo ma con i gestionali non ho quasi mai problemi di questo genere vuol dire che i miei colleghi sono più cattivi di me ok la formazione dei turni allora la formazione dei turni io tengo conto degli eventuali altri vincoli veri che abbiate nello stesso giorno io so che in uno dei due appelli c'è una sovrapposizione con un altro esame del secondo anno essendo di un anno diverso sapete che il calendario esami non può garantirlo però noi potendo giocare sui turni chi ha l'esame alle 8.30 di non so bene che cosa di Termo me lo dice io sono già in accordo con la collega dell'altro corso che mi fa vedere il suo elenco dei prenotati così siamo sicuri che non cercate di fare furbi e io vi sposto all'ufficio nel secondo turno o terzo insomma quale sarà quindi se avete delle sovrapposizioni di esame me lo fate sapere non adesso tanto me lo dimentico ma me lo fate sapere nel momento in cui si chiudono le prenotazioni così io vi sistemo nei turni dimmi no quindi chi ha delle necessità reali che non sono del tipo io alle 8.30 non riesco a svegliarmi me lo fa sapere e vi sistemo un turno diciamo così per voi accessibile tutti gli altri vi metto dentro random.org e rimescolo l'elenco quindi non mi voglio prendere responsabilità di ordine lettera alfabetica eccetera eccetera un mischione unico va come va ok nei vari turni il testo è un po' diverso non tantissimo diverso perché la difficoltà ovviamente deve essere più o meno confrontabile e e quindi anche anche il testo di vari tracce noi prepariamo tre tracce anche quelle cerchiamo di randomizzarli in modo da non essere troppo influenzati perché la prima che pensi di solito è più facile la terza che pensi però cerchiamo di fare il database sarà lo stesso il tipo di elaborazione sarà leggermente diverso però in un certo appello se c'è ricorsione c'è ricorsione per i tre turni poi cosa devi calcolare con la ricorsione sarà un pochino diverso e non nego che probabilmente per chi è nel terzo turno è un pochino facilitato perché se non altro ha saputo cosa hanno fatto gli altri nei turni precedenti il suo testo non sarà uguale ma però non so che cosa farci su questo se non dire la sorte a volte facilita alcuni e non altri perché l'alternativa è dare compiti radicalmente diversi ma poi diventa complicato avere diciamo quello di una è per quello che non vi lascio cambiare turno a piacere però noi cerchiamo di fare il possibile per non vi racconto gli aneddoti di persone che del terzo turno o del secondo turno che hanno risolto l'esercizio del primo turno così si vede che avevano avuto un'illuminazione che gli ha chiesto di fare una cosa diversa ecco queste cose qua ovviamente le becchiamo subito quindi ok quindi poi dal terzo appello in avanti al settembre di solito basta fare un turno non c'è bisogno ecco se per caso la caso particolare del caso particolare se per caso su tre turni non riuscissimo a starci perché foste così tanti che tre turni pieni del laboratorio non fossero sufficienti a coprire tutti i presenti aggiungeremo un quarto turno in aula in cui portare i vostri computer in parallelo a uno di questi tre turni diciamo così in laboratorio ci è capitato una volta o due in tutale vabbè a parte il periodo in cui non si poteva andare in laboratorio per i motivi vari ci è capitato l'anno scorso una volta che ci fossero tanti iscritti non possiamo fare su due giorni questa cosa perché il calendario degli esami è già talmente fitto che non possiamo debordare su un giorno diverso quindi in giornata dobbiamo finirlo fare un turno dalle otto alle undici di sera non mi sembra il caso sia per voi che per noi perché noi saremo lì dal mattino a correggere compiti quindi siamo già fusi e quindi cerchiamo di farlo in parallelo quindi se per caso mi accorgo che i numeri di prenotazioni andassero in quella direzione comincerò a chiedervi di compilarvi un form per dire chi è disposto a farlo in aula col proprio computer sotto ovviamente sorveglianza però nello stesso meccanismo in cui si fa nel laboratorio in quel caso i tempi sono un po' diversi perché non saremo in tre a correggere ma solamente ci dovremmo dividere però vabbè questo si gestisce spero che non debba succedere perché se lo facciamo tutto nello stesso modo in laboratorio è più facile altrimenti però ci dobbiamo tenere in contatto quando cresceranno le prenotazioni e vedremo su che numero se sesteranno se non ci sono domande io direi che non vale la pena di iniziare un argomento nuovo adesso che sarebbe l'argomento abbastanza semplice ci manca sulla cammini minimi nei grafi quindi vedere essenzialmente come si calcola un cammino minimo usando l'argomento di Diestra e cose simili che avete già visto a ricerca operativa vedremo come si fa in JGraft T e ci vediamo domani o vi vedete domani sulla prima simulazione mi raccomando i turni di laboratorio rispettarli mi raccomando come dicevo all'inizio queste due cose grazie a tutti grazie a tutti